E' allarme siccità in Gran Bretagna. Vaste zone dell'Inghilterra centro-orientali soffrono della mancanza di precipitazioni. Senza pioggia alcune restrizioni potrebbero diventare necessarie. Per quanto riguarda la capitale Londra, al momento non sembrano esserci pericoli, ma per l'agricoltura la situazione è grave. Al momento, dice Adrian Peck, che di lavoro fa l'agricoltore, prevediamo di avere il 20-25% del raccolto in meno dell'anno scorso, ma se non si mette a piovere, sarà ancora meno. La siccità record che ha colpito la Francia, non si vedeva una primavera così secca dal 1900, fa temere anche per le centrali nucleari. L'autority per la sicurezza sta valutando quali potrebbero essere le conseguenze del calo del livello dei corsi d'acqua sul raffreddamento dei reattori, ma assicura che per ora non ci sono rischi. Il governo francese concederà 700 milioni di aiuti agli agricoltori danneggiati.